Se alza il sipario sulla quindicesima giornata di campionato di Serie D, dopo un duro allenamento settimanale, le molisane sono pronte ad affrontare le avversarie e sperano di poter portare a casa tre preziosi punti, utili per la rimonta in classifica. In particolare, i ragazzi di Mister Massimiliano Favo hanno provato a cercare una determinante personalità e tecnica di gioco in campo. Nella quattordicesima giornata di campionato, il Campobasso è stato sconfitto dal Matelica. Dopo un buon primo tempo di rosso-blu, infatti, che segnano con Aquino, la ripresa è stata caratterizzata dai soliti lapsus che stanno contraddistinguendo il cammino della squadra nel campionato, a vantaggio di Esposito e di Pesaresi. Secondo Favo, però, si tratterebbe di una partita condizionata dall'arbitro. Intanto i lupi sono sempre più in zona play-out. Se aperte ha inoltre una finestra sul calciomercato, oltre all'allenamento diverso per Bucchi e Dimas, l'Avezzano vorrebbe censori, mentre Boldrini e Bontà hanno ricevuto una richiesta dalla Samb. Altrettanto speranzose le squadre pentre. Dopo la quattordicesima di campionato, i biancocelesti di mister Pierluigi De Bellis sono pronti a mettere in campo il loro gioco di precisione nella partita contro il Castelfidardo. Dopo la vittoria con la Iesina, i ragazzi di mister Paolucci continuano a mirare al meglio e, nonostante la dura trasferta con la capolista sanbenedettese, puntano a portare a casa tre preziosi punti.